Ciao a tutti, con questo video vorrei parlare del magnetismo, come le donne possano in qualche modo diventare magnetiche anche nei confronti degli uomini, ma non solo degli uomini, nella vita in generale. Che cosa ci rende affascinanti, fascinosi, magnetiche? Molte donne pensano che sia attraverso l'esteriorità, quindi si curano nei minimi particolari, si agghindano nei minimi particolari con l'abbigliamento, con il trucco. Tante volte eccedono anche nella preparazione per un incontro magari con un uomo, pensando che sia proprio attraverso l'esteriorità che si possa in qualche modo affascinare un uomo. In realtà non è proprio così, in quanto sì, la cura di noi stessi è importante, l'abbigliamento è una caratteristica, una valenza in più che si può aggiungere, ma senza morbosità, senza farla diventare una questione di vita e di morte, una questione ossessiva, puntare solo sull'abbigliamento, sull'esteriorità, su magari anche il fatto di presentarsi in modo provocante o comunque perfette. Non è quello che affascina un uomo, perché noi in realtà arriviamo alle persone, quindi anche agli uomini, all'uomo tramite la nostra energia, quindi a livello energetico arriviamo ad un uomo. Questo senza ombra di dubbio, quindi sono le nostre frequenze, le nostre vibrazioni, la nostra carica energetica, la nostra energia che fa sì che noi possiamo apparire magnetiche, apparire affascinanti. Al di là di quello che può essere il nostro aspetto fisico, è successo sicuramente quasi a tutte di essersi preparate magari in modo preciso, dettagliato, ad un appuntamento o comunque per un'uscita e non aver scaturito alcun successo, nessun interesse da parte magari di qualcuno. Mentre sicuramente vi sarà successo di presentarvi, magari non in modo impeccabile, ma aver fatto colpo, risultate molto affascinanti, molto magnetiche ad una persona. Senza che magari voi stesse pensavate di esserlo, perché non avevate dedicato particolare cura a voi stesse, quindi eravate meno truccate, meno impeccabili nell'abbigliamento. Ma quello che conta, come dicevo, è la frequenza delle vostre vibrazioni, l'energia, la carica di energia che avete, che trasmettete, che fate arrivare all'altra persona. Ovviamente la carica energetica, la frequenza delle nostre vibrazioni dipende molto da come noi stesse ci percepiamo, del valore che abbiamo di noi stesse, della nostra autostima, di come ci amiamo, di come amiamo i nostri difetti, accettandoli anche, perché se noi non accettiamo i nostri difetti, visto e considerato che nessuno è perfetto, non saremmo in grado neanche di farli accettare agli altri, alle altre persone, cioè non piacendo a noi stesse non saremmo in grado di piacere agli altri. Quindi è molto importante come ci trattiamo, quanto ci amiamo, quanto ci siamo accettate, nel bene e nel male, come ci percepiamo. Ecco, questo è un po' il segreto del magnetismo, di come noi possiamo riuscire ad affascinare anche in amore un uomo e quindi diventare magnetiche. E con questo video è tutto, un bacio dalla Pink, iscrivetevi al canale, ciao ciao!